buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv i giornali sono tornati in edicola sono tornati dopo la pausa del primo maggio i giornalisti non hanno lavorato quindi i giornali non erano in edicola e molte edicole erano chiuse e a questo proposito dobbiamo piangere la perdita di un'edicola quella che a fano operava nei pressi del ponte storto in via roma purtroppo era purtroppo dovuto chiudere anche qui la situazione economica degli edicolanti non è buona e purtroppo una una stiamo perdendo diversi edicole ed edicole non sono soltanto dei negozi di vendita dei giornali ma sono anche punti di incontro di socialità ed è un peccato che si chiudano queste questi centri di cultura diciamo così ma anche di e di socialità ebbene speriamo che le altre resistano e possano così attuare un buon servizio di vendita perché poi se si perdono i giornali si perde molto non bastano i social non basta il web per propagandare le notizie sulla carta almeno le notizie rimangono e costituiscono anche un documento storico di rilevante importanza bene fatta questa premessa oggi piangiamo appunto quello che abbiamo perduto però cerchiamo di preservare quello che è rimasto e allora passiamo leggendo l'almanacco del giorno a vedere chi è il santo che si festeggia nella giornata di oggi ed eccolo qua nella grafica anzi i santi oggi sono due sono i santi filippo e giacomo due apostoli ebbene filippo nato a bezzaida seguì gesù riconoscendo in lui il messia ricevuto lo spirito santo nella nella casa del cenacolo dove appunto gli apostoli si erano uniti dopo la morte di gesù fu nominato vescovo di fu scusate portò il vangelo nella scizia e nella frigia e poi morì crocifisso morì martirizzato mentre giacomo che era un parente della madre di gesù di maria viene detto il minore per distinguerlo dall'altro giacomo il maggiore che faceva parte sempre della schiera dei dodici apostoli fu fatto vescovo di gerusalemme dove fondò una comunità di cristiani anche lui fu martirizzato fu aggredito dagli ebrei che lo gettarono dalla terrazza del tempio di gerusalemme ma non morì e fu poi colpito con un colpo di mazza che le procurò la morte con una mazza sulla testa e quindi fu anche lui martirizzato oggi dunque la festa di filippo e giacomo due nomi che si ripercuotano che si propagano ancora oggi sono molti i giovani che si chiamano i meno giovani che si chiamano filippo e di giacomo vediamo ora le previsioni del tempo oggi abbiamo nuvolosità irregolare a tratti estesa associata a qualche pioggia o acquazione sparso più probabile sui settori meridionali della nostra regione i venti sulle coste spirano con una tensione media da ovest dall'introterra da sud ovest le temperature 11 la minima 17 la massima siamo ancora su valori piuttosto bassi il sole il sole solto alle 5 07 e tramonterà alle 20 e 11 e allora apriamo i giornali questa mattina così evidenziando la grande notizia che pubblicano tutti i quotidiani con grande evidenza soprattutto i quotidiani con cronaca locale perché parlano del lisippo e vediamo subito qual è la grande notizia eccola qua la vediamo sul resto del carlino il lisippo deve tornare in patria anche strasburgo quindi la corte europea dei diritti dell'uomo dà ragione all'italia la corte europea riconosce il diritto di richiedere la restituzione al ghetti museo e quindi convalida la sentenza emessa dal tribunale di pesaro che ha decretato la confisca dell'opera d'arte che è stata sottratta all'italia dopo che è stata inviata nel mercato dei beni clandestini dei beni culturali del mercato clandestino insomma che è fuggito alle regole che sovraintendono alla custodia delle opere d'arte dei beni culturali abbiamo anche un commento di siglia cecchi il magistrato che più di ogni altro possiamo dire si è battuto perché l'italia ottenga la restituzione di questo grande bene culturale soprattutto l'ottenga fano ebbene dice una grande vittoria diamo un'occhiata dunque a quanto è avvenuto può tornare in italia quindi a fano la statua del lisippo anche la corte europea dei diritti dell'uomo di trasburgo dà ragione al nostro paese riconosce all'italia il diritto di confisca e richiedere la restituzione dell'atleta di fano l'opera attribuita allo scultore lisippo scultore lisippo un grande artista dell'antichità siamo nel periodo ellenistico della dell'arte della cultura greca siamo nel periodo di alessandro magno un periodo più tardo diciamo così susseguente al periodo classico quello di fibia quello del partenone però è un momento di trapasso della cultura della storia dell'arte lo evidenzia in modo particolare nel corriere adriatico la presa di posizione di dello storico rodolfo battestini un'opera di straordinario valore la svolta artistica fu epocale perché fu epocale perché si passò da un valore comunitario dell'opera quale un'opera che identificasse il senso di comunità il senso della poleis ad un'opera invece che individuava valorizzava l'individualità cioè la persona più che la comunità ebbene l'opera del di lisippo dell'atleta che si incorona non è un'opera simbolo secondo battestini ma secondo anche tanti altri critici d'arte di grande levatura il lisippo che ha il ghetti è una persona identificabile e sono state fatte anche delle ipotesi per quanto riguarda la sua attribuzione a dei generali di alessandro magno si parla infatti di demetrio poliorcete figlio del diacono antigono del diacono antigono che perseguì il disegno paterno di riunificazione di tutti gli stati che si erano frantumati dopo l'impero di alessandro magno e l'altro invece è seleuco primo nicatore figlio di antioco generale anche lui di alessandro quindi sono due personaggi identificabili nell'atleta che si incorona dopo aver vinto una gara di corsa probabilmente ad olimpia ci sono diverse poi ipotesi che rivelano quello che è accaduto ma vediamo anche il fatto della confisca a cui il corriere dedica due pagine due pagine importanti l'esippo legittima la confisca la statua deve tornare a fauna questo appunto punto fermo di carattere legale dopo la sentenza del tribunale di pesaro diciamo la doppia sentenza perché poi c'è stato un ricorso che è arrivato fino in cassazione poi tornato indietro rifatta la sentenza ora addirittura scendati alla corte europea dei diritti dell'uomo e a questo punto il getti museo se è un'istituzione culturale certa integrale credibile non può non osservare quanto disposto dai giudici la corte europea respinge il ricorso del getti di trust contro l'ordinanza del giudice gasparini di pesa e c'è da notare una cosa importante a ricorrere al tribunale europeo è stato il getti e quindi è sua l'iniziativa di riconoscere la validità della sentenza dei giudici di bruxelles e a questo punto anche se la sentenza è avversa al ricorrente questo non può che osservarne tutti i dispositivi e qui abbiamo dunque due pagine l'esippo legittima la confisca opera di valore straordinario la svolta artistica fu epocale e veniamo alle altre notizie pubblicate dal resto del carlino per un inciso voglio anche parlare di prese di posizione e intervengono sulla questione sia il sindaco massimo seri che la consigliera regionale marta ruggeri la quale ha avanzato subito una mozione chiedendo alla regione di intervenire perché poi anche lo stato insista per richiedere la restituzione approfittando appunto della sentenza della corte europea il sindaco parla poi della nuova sede la nuova sede è importante perché poi la statua è un reperto molto fragile non può girovagare in tutta Italia da una parte e dall'altra Fano se lo vuole mantenere deve subito predisporre un museo un'istituzione che possa valorizzare la statua stessa veniamo alle altre notizie siamo ormai in vicinanza della tappa del Giro d'Italia che avverrà a Fano il 16 maggio prossimo è in previsione di questo grande evento sportivo ebbene la Proloco ha organizzato anzi ha coordinato diciamo meglio tutta una serie di iniziative che rendono ancora più esaltante l'attesa per questo grande evento che insomma coinvolgerà un po' tutta la città e sono tantissime tantissime veramente le iniziative che vengono fatte che si colorano di rosa che è il colore del Giro la città si veste di rosa iniziative in nome del Giro poi ci sono anche delle modifiche alla viabilità ovviamente il giorno del 16 che è un giovedì il 16 maggio la viabilità di Fano verrà sconvolta perché poi deve essere tutto messo in sicurezza per il passaggio del Giro e ci saranno anche le scuole chiuse quindi anche i ragazzi potranno così partecipare a questo evento ma in attesa che arrivano i girini ci sono tante camminate in rosa pedalata in rosa manifestazioni in rosa gare sportive in rosa insomma tutto quello che può così rendere ancora più vivace più emozionante l'attesa per questa grande gara sportiva per l'occasione è stato varato un cartellone di appuntamento sportivi e non solo e appunto chi vuole poi conoscerlo in particolari vi invito a leggere i giornali perché ci sono orari posti iniziative tutto quanto viene è stato annunciato è stata una conferenza stampa che si è svolta nella giornata di ieri e ne parla Giacomo Grandicelli che è il presidente della Proloco di Fano un articolo di cronaca ebbene la sicurezza a Fano continua a essere un po' in un problema perché dopo le risse che si stanno verificando in centro storico ne è successa un'altra un'altra è accaduto una nuova rissa con botte ombrellate per gelosia in pieno centro il solito posto Viale Arco d'Augusto Piazza Andrea Costa Piazza Amiani insomma la zona è quella è accaduto tra cinque giovani la lite è proseguita anche nella sala d'attesa poi del pronto soccorso dove chi ha avuto delle botte è andato a farsi a medicare ebbene tutto è avvenuto mercoledì pomeriggio al Pincio cinque protagonisti di questa vicenda tutti giovani di età compresa tra i 19 e i 27 anni non sono proprio giovanissimi tre ragazzi e due ragazze italiane di origine straniera uno sguardo in più un commento sbagliato e poi tutto è cominciato e se la sono dati di santa ragione qualcuno dice che è stato tirato fuori anche un bastone tipo manganello un colpo secco sulla mano è una ragazza ha riportato la frattura ad una falange e quindi è arrivata la polizia sono stati fatti gli accertamenti poi sono andati al pronto soccorso e tutto questo ha dato un nuovo motivo al centro-destra in modo particolare al candidato sindaco Luca Serfilippi di richiedere prima di tutto di stigmatizzare l'accaduto e poi di richiedere ancora una maggiore sorveglianza una maggiore presenza dei vigili urbani nel nostro territorio è una delle prime realizzazioni che Serfilippi dice di attuare nel caso fosse eletto sindaco della città di Fano è quello di incrementare l'organico dei vigili urbani pienone per gli eventi sportivi è l'ora del roving beach sprint cos'è il roving beach sprint è canottaggio ma è un canottaggio particolare un canottaggio che non si svolge nei laghetti oppure nei canali nei canali interni insomma si svolge in mare ed è un'iniziativa che ha che sta organizzando il circolo del Lido il circolo velico del Lido presidente Giorgio Bonazzelli il club nautico fanese ne hanno parlato ieri lo stesso Bonazzelli con Fabio Patrignani che è un direttore di gara è un'iniziativa particolare di grande di grande spettacolarità ci sono anche concorrenti stranieri si svolge questa iniziativa sabato e domenica gare di canottaggio pensate che i concorrenti partono di corsa dalla spiaggia montano sul canotto vogano devono raggiungere una boa tornare indietro e arrivare al traguardo è un'iniziativa spettacolare che ha la peculiarità di essere accoppiata ci sarà uomo e donna su ogni imbarcazione e dicevo vengono anche atleti in tutto sono 380 gli atleti sono tantissimi e vengono anche dall'estero vengono vediamo un attimo vengono dall'Austria dalla Croazia dall'Egitto dalla Svezia insomma sono veramente è veramente una gara di carattere europeo ed è propedeutica a questa specialità che troverà la sua ufficialità nelle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 quindi anche questa gara è sotto osservazione da parte della Federazione Federazione che sarà presente con il suo presidente Giuseppe Abagnale qui a Fano e poi questa sera sarà anche ospite del Panathlon Club vediamo ora le altre notizie qui si parla ancora della Colle Marathon la carica di oltre mille ormai mancano pochi giorni alla realizzazione di questa gara stupenda il 5 maggio oltre mille partecipanti non tutti alla maratona vera e propria ma ci sono anche corse un pochino su chilometraci minori che comunque acquistano sempre una grande partecipazione e passiamo ad Urbino dove si è approvato il consuntivo del 2023 con un rendiconto che presenta un avanzo un avanzo di 19 milioni di euro i conti del comune sono dunque positivi ma pesano pesano 10,4 milioni di euro di indubbia anzi di dubbia di dubbia esigibilità e sono quei crediti che sarà difficile riscuotere e questo è per quanto riguarda il consuntivo in questi giorni un po' tutti i comuni approvano questo bilancio prima l'alluvione poi i bollettini cittadini infuriati a Cantiano pensate a Cantiano il consorzio di bonifica dopo quanto accaduto dopo l'alluvione che ha distrutto tutto e ancora non si è riusciti a ricostruire ebbene chiede il pagamento della tassa è veramente una cosa un po' lunare anche gli utenti dei comuni alluvionati tra cui Cantiano hanno ricevuto da qualche giorno i bollettini per il pagamento del contributo del 2024 ebbene dopo aver recepito le proteste dei cittadini interviene anche il sindaco Alessandro Piccini dice che se la finalità di questo contributo è quella di consentire al consorzio l'attività di monitoraggio per evitare queste tragedie ebbene la cosa non è che ha avuto un grande successo dopo quanto è avvenuto e almeno per quest'anno dopo i danni che tutti i cittadini di Cantiano hanno ricevuto dalla tremenda alluvione che ha sconvolto il paese si poteva soprassedere dal pagamento di questa tassa vediamo anche una notizia che riguarda Pesaro ma riguarda un po' anche tutto il litorale provinciale si parla della Bolkenstein dopo che il Consiglio di Stato ha confermato che insomma bisogna pagarla no bisogna pagarla bisogna giungere bisogna osservare soprattutto le disposizioni europee giungendo alla a rimettere in ballo le concessioni spiagge un avviso tranquillo ai bagnini prima di 5 anni non cambierà nulla rassicura in questo caso Giuliani della confartigianato Andrea Giuliani che tutela i bagnini della provincia ebbene anche se la scadenza è del 31-12 quindi entro il 31-12 bisogna osservare questa benedetta regola europea ebbene ci vorrà del tempo perché poi venga messa in pratica per fare un'asta bisogna fissare i criteri di indenizzo ma ancora non è stato fatto nulla quindi ci vorrà del tempo e poi c'è anche tempi perché ci siano nuove concessioni balneari bisogna stabilire soprattutto quelli che sono i criteri di assegnazione cosa che anche questa non è stata fatta quindi insomma almeno per altri cinque anni dice Andrea Giuliani staremo tranquilli ma poi prima o poi questa cosa dovrà andare in porto è un po' la presa di posizione e poi parliamo di sanità parliamo di sanità perché il resto del carlino evidenzia come se vanno via gli anestesisti dagli ospedali di Fano e Pesaro la situazione veramente si complica in un modo quasi irreversibile battaglia sugli anestesisti gli assessori dove sono lo chiedono insistentemente sia Andrea Biancani che Marta Ruggeri che fanno l'opposizione in consiglio regionale vediamo ora le pagine del Corriere Adriatico abbiamo visto le due pagine che riguardano il Lisippo vediamo ora le altre pagine chiuse le liste d'attesa per gli esami un servizio tv scatena lamentele e critiche ebbene questo articolo è un articolo che riguarda l'inchiesta che ha fatto la trasmissione televisivo fuori del coro che va in onda su Rete4 è la trasmissione condotta dal giornalista Mario Giordano la puntata del primo maggio scorso ha sollevato un vespaio dobbiamo dire perché è intervenuta sulla lunghissima lista d'attesa che gli utenti debbono osservare per ricevere prestazioni sanitarie come le visite come gli esami diagnostici ebbene tutto questo insomma scatenato dal punto di vista politico una ridda di polemiche accuse contro accuse il centrodestra imputa questo stato di cose al centrosinistra responsabile della conduzione della sanità nella precedente amministrazione il centrosinistra accusa il centrodestra perché non è stato in grado di superare questo stato di cose e insomma chi ci rimettono sono sempre gli utenti e ci sono diverse testimonianze oggi sui giornali per i tempi lunghissimi necessari per avere degli esami per esempio da novembre non riesco a prenotare la mammografia a un anno e c'è che per una risonanza magnetica alla madre ottoagenaria si è sorbito 60 chilometri all'andata e altrettanti al ritorno salvo a sentirsi dire che l'esame era stato annullato per un problema di corrente elettrica quindi uno fa 60 chilometri andata 60 ritorno poi quando arriva a destinazione dice che l'esame non si può fare perché non c'è la corrente insomma veramente siamo agli estremi di una situazione che in qualche modo deve essere per forza risolta anche il Corriere Adriatico parla di tutte le iniziative propedeutiche alla tappa del Giro d'Italia in programma il 16 maggio a Fano fanno outdoor inno allo sport gli 11 eventi in attesa del Giro ma sono anche di più ciclismo calcio padel tennis e podismo tra le manifestazioni in attesa del 26 maggio e vediamo anche la protesta di Cantiano che viene evidenziata dal Corriere Adriatico abbiamo qui la foto di Giacomo Rossi che aveva invitato il Consiglio regionale a non applicare la tassa del Consorzio di Bonifica agli alluvionati purtroppo questo non è avvenuto boletini inviati agli alluvionati a ragione Piccini è una beffa dice Rossi che aveva già chiesto la sospensione della tassa di Bonifica vediamo anche la pagina di Senigallia gite scolastiche promozione in radio Senigallia è sempre più da copertina Senigallia come centro balneare ma anche come centro un po' tra le province di Pesaro e la provincia di Ancona è sempre più frequentata come base per le gite scolastiche che poi vanno un po' a urbino un po' a frassarsi e girano un po' per le cose più belle delle marche la città infatti è il baricentro delle visite che si compiano tra Recanati fra Sassi e Urbino e poi c'è anche un problema di carattere igienico che sconsiglia anziché vieta di fare i bagni alle foci del Misa e del Cesano ma anche nelle foci del Metavro c'è un'ordinanza che vieta di fare il bagno e nessuno si sogna di bagnarsi alla foce dei fiumi che sono sempre delle zone un po' a rischio un po' pericolose e siamo in conclusione voglio segnalarvi soltanto questa notizia che appare sulla pagina di Pesaro si tratta di un articolo di cronaca rapinarono uno studente assolto il maggiorenne si tratta di una di un'aggressione che è venuta in treno ed è confluita appunto davanti al giudice ieri la fine dell'istruttoria e la sentenza davanti al collegio di Pesaro per un trentenne marocchino secondo l'accusa nel 2022 assieme ad un complice avrebbe avvicinato uno studente al rientro da Bologna all'altezza della fermata di Pesaro e gli avrebbe sottratto il portafoglio ed ora con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a domani sempre alle 7 vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata a risentirci